buongiorno a tutti allora seconda parte del video riguardante le notizie di calcio più che altro di calcio mercato del 20 luglio 2018 quindi bando alle ciance partiamo subito con il bologna perché è ufficiale l'arrivo di federico mattiello ha superato le visite mediche in maniera perfetta e quindi lascia l'atalanta e passa al bologna marsiglia preso il difensore caleta car dal salisburgo battuta la concorrenza della lazio che è sempre alla ricerca di difensori anche perché deve trovare il sostituto di defray che è venuto da noi caleta car comunque un classe 96 nella sua definizione è roccioso difensore del salisburgo quindi ha preso un signor difensore veniamo al napoli a de laurentis l'arrivo di cavani è una bufala il dio denaro non fa sconti non si dimezzerà lo stipendio se vuole però vuole prendere 8 milioni e mezzo magari ci possiamo fare un pensierino da quello che ho capito è perché se non erro cavani ne prende 17 napoli verdi non ho avuto alcun dubbio sulla scelta le punizioni decideranno celoti io più forte con il sinistro quindi magari se la punizione è sulla sulla destra lui con sinistra la può mettere su tutte e due i pali veniamo sempre al napoli alle dichiarazioni di fabian ruins mi ispiro a savi che è un fuori classe sono stimolato perché ho compagni di reparto fortissimi ancora napoli e le dichiarazioni del portiere meret che come sapete col bracciettino roto io erroneamente avevo detto prima prendete se rotto fa comunque qualche si è rotto si è rotto si è rotto un braccio dichiarazioni di meret ronaldo un valore aggiunto per la juve vedremo se sarà in grado di cambiare gli equilibri e magari fa come bonucci che gli equilibri non li ha cambiati napoli carnesis devo sempre farmi trovare pronto perché appunto l'altro è sospettaceto ancelotti un sogno essere allenato da uno così bravo veniamo alla roma e ai tre mesi di sospensione sospensione per james pallotta la decisione della uefa naturalmente in merito alle dichiarazioni post liverpool allora dopo una partita del genere dopo che l'arbitro ha combinato quello che ha combinato anche tra ogni tanto la uefa dovrebbe un attimino rendersi conto che uno ha anche ragione a lamentarsi cioè non è che ha detto quel figlio di ha detto l'arbitro sbagliato ci vorrebbe il bar eccetera eccetera perfettamente ragione c'era una parata di un difensore c'era un fallaccio da ultimo uomo ha sbagliato il fuorigioco su differenza con liverpool in dieci o forse anche in nove ne riparliamo comunque si è preso tre mesi se l'ha buttata sul ridere proseguiamo tanto lui se ne sta in america ogni tanto passa di lì quindi magari i primi tre mesi sta via come scade arriva di corsa a vedersi qualche partita e a scendere nuovamente negli spogliatoi roma per il dopo allison i nomi per il momento restano sempre olsen aureola e silesen silesen spero di averlo detto giusto faccio fatica col nome del secondo portiere del barcellona roma si attende l'ok del bordeaux per chiudere mal come ecco un'altra botta e quell'altro che va la juve questo che noi ci stiamo dietro due mesi poi arrivano loro tac cash e lo portano a casa offerta da 38 milioni il giocatore ha già accettato quindi bisogna vedere se accetta il bordeaux i 38 milioni o fa no e non ne vogliamo 40 spero di novere oramai non se ne può più di questo malcom in italia roma dichiarazioni di monkey quest'anno serviva una piccola rivoluzione abbiamo l'ambizione di costruire qualcosa di importante poi un'altra notizia negativa come ben sapete cesena e bari sono già finite in serie di poi vedranno come come riprendersi ripartire se fare qualche miscuglio con altre squadre alleanze o quel che è purtroppo anche l'avellino calcio non è stato ammesso alla serie b esito negativo dalla cosi dalla comisoc per gli irpini però non demordano perché infatti l'avellino che non è appunto stato ammesso alla serie b ha deciso che presenterà ricorso al collegio garanzia del coni è l'ultima possibilità se anche il corregio il collegio garanzia coni dici signori miei note non tenete di nero e state a casa in compenso ci sono sei squadre che sono state ammesse alla lega pro perché devono sostituire quelle che è in me sono state spedite di o perché sono fallite o perché non potevano iscriversi o per vari motivi le squadre ammesse sono il matera la lucchese la triestina la pistoiese il cuneo e il monza quindi queste sei squadre sono state riammesse o ammesse direttamente alla serie lega pro o serie c che dir si voglia veniamo a cosa un attimino più più su quindi pari san germain dichiarazioni neymar mister mi tuffo e faccio la sceneggiata presto a parigi qui ho un contratto sarà un onore giocare con gigi buffon liverpool dichiarazioni di alison un sogno che diventa realtà in campo darò il cuore come ho fatto nella roma ultima dichiarazioni dallo jansu ed è di eder che appena smammato è andata a giocare del jansu suning la mia inter alle basi per lo scudetto scusate gesto scaramantico una toccatina ci vuole spalletti punta al titolo e fa bene lautaro top lei ecco qua scusate ma un'altra toccatina ci vuole perché veramente state zitti perché ste cose qua mi fanno preoccupare tantissimo cioè io quando sento ste cose veramente non so più che cosa toccare ferro spiombo vado a prendere il coso del anzi eccomi qua scusate mi matto con attimino gli amuleti il cornettino vedete c'è il cornettino il ferro di cavallo perché quando ci vuole ci vuole che questo ha gufato la tirata giù la gufata quindi controllatina come sempre toccatina perché ed è veramente se stava zitto era meglio perché già lì ho già paura bene questa era l'ultima notizia vi saluto vi ringrazio occhio malocchio pellezzemolo e finocchio e stop ci vediamo alla prossima ciao ciao